Durante l'esecuzione dell'esperimento di Young in laboratorio ci troveremo di fronte a una situazione del genere, come quella che ho rappresentato qui. Avremo le due sorgenti di luce, che sono S1 e S2, lo schermo, che viene posto a una certa distanza L dalle fenditure, le fenditure che sono a loro volta poste ad una certa distanza D, e S, con la quale indichiamo la distanza tra il punto centrale e il primo massimo. Utilizziamo un fascio di luce monocromatico, questo per avere la stessa lunghezza d'onda, e lo facciamo passare attraverso le due fenditure. Il fascio di luce percorrerà una certa distanza per arrivare sullo schermo. Tuttavia, non è detto che il fascio di luce che fuoriesce dalla prima sorgente percorre la stessa distanza del fascio di luce che esce dalla seconda sorgente. Infatti, se noi facciamo passare un fascio di luce da S1 che arriva in P, e poi un altro fascio di luce dalla seconda sorgente che arriva sempre in P, noteremo ovviamente che le due distanze sono diverse. Siccome la luce è di natura ondulatoria, le due onde, provenienti da S1 ed S2, potrebbero essere in fase e quindi nel punto P generare una interferenza costruttiva, oppure essere in opposizione di fase e quindi generare un'interferenza distruttiva. Quindi, sullo schermo, potremo osservare dei punti luminosi, quando le onde sono in fase, e dei punti scuri, dove le onde sono in opposizione di fase. Analizzando questo disegno, possiamo ottenere una relazione che lega la lunghezza d'onda tra le varie distanze che vediamo appunto in questo grafico, ovvero L, S e D. In questo modo possiamo dire che la lunghezza d'onda è uguale a D piccolo per S fratto L. In questo modo possiamo dire che la lunghezza d'onda è uguale a D piccolo per S fratto L. In questo modo possiamo dire che la lunghezza d'onda è uguale a D piccolo per S fratto L. In questo modo possiamo dire che la lunghezza d'onda è uguale a D piccolo per S fratto L. In questo modo possiamo dire che la lunghezza d'onda è uguale. In questo modo possiamo dire che la lunghezza d'onda è uguale.